La vita è sacra, inviolabile e indisponibile. È uno dei passaggi del messaggio che Papa Francesco ha diffuso per la ventottesima giornata mondiale del malato che la Chiesa celebrerà il prossimo 11 febbraio. Il Pontefice ha rivolto un pensiero agli operatori sanitari affinché il loro agire sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona. Sentiamo. La vita è sacra e appartiene a Dio, pertanto è inviolabile e indisponibile. Ecco il cuore del messaggio che Papa Francesco ha firmato e diffuso in vista della ventottesima giornata mondiale del malato che la Chiesa celebrerà l'11 febbraio prossimo. La vita va accolta, tutelata, rispettata e servita dal suo nascere al suo morire, ribadisce il Santo Padre che chiede cure ai malati, ma anche nessuna omissione da parte degli Stati nella possibilità di accedere alle cure. Il suo appello è chiaro. Mi rivolgo alle istituzioni sanitarie e ai governi di tutti i paesi del mondo affinché, per considerare l'aspetto economico, non trascurino la giustizia sociale e si cooperi perché tutti abbiano accesso a cure adeguate per la salvaguardia e il recupero della salute. Il Pontefice si rivolge anche agli operatori sanitari che con competenza agiscono facendo sentire la presenza di Cristo che offre consolazione e si fa carico della persona malata, curandone le ferite. Pertanto, dice loro, il vostro agire sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona, senza alcun cedimento ad atti di natura eutanasica di suicidio assistito o soppressione della vita, nemmeno quando lo stato della malattia è irreversibile. La Chiesa vuole essere sempre più e sempre meglio la locanda del buon samaritano che è Cristo, cioè la casa dove potete trovare la sua grazia che si esprime nella familiarità, nell'accoglienza e nel sollievo. Ha evidenziato ai malati Francesco spiegando che nella malattia la persona sente compromessa non solo la propria integrità fisica ma anche le dimensioni relazionale e intellettiva e perciò, oltre alle terapie, ha bisogno di sostegno, sollecitudine e amore.